Matteo Di Appignano, allenatore anche lui del settore giovanile, parliamo di questi incontri che ci sono stati e dei risultati che in qualche modo riuscite ad ottenere. Qual è il vostro punto di vista? Dopo questi incontri abbiamo riproposto in campo quello che ci ha portato De Paoli e abbiamo visto che c'è stato un buon risultato sia da parte di tutte le categorie del settore giovanile al momento che abbiamo portato questo lavoro in tutte le categorie e abbiamo visto che sia i ragazzi ma anche per noi è stato un bel lavoro. Quindi non solo tecnica, siete riusciti ad intervenire anche dal punto di vista psicologico non solo tra voi allenatori ma con i ragazzi? Certo, è un lavoro che va a toccare tanti aspetti e è veramente utile sotto tutti gli aspetti anche per quanto riguarda l'aspetto emotivo con i ragazzi e l'aspetto psicologico. Grazie.